Chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità. Sono queste le nuove misure, ancora più stringenti, annunciate ieri sera a Reti Unificate dal Premier Giuseppe Conte. La prima regola rimane quella di limitare gli spostamenti solo per le attività lavorative, per motivi di salute e per fare la spesa. La stretta riguarda soprattutto il settore della ristorazione. Chiusi bar, pub e ristoranti tutto il giorno, ma saranno consentite le consegne a domicilio fino alle 18. Chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio, chiusi mercati, chiuse le attività di servizio alla persona come parrucchieri e estetisti. Rimarranno aperti invece i supermercati, i negozi alimentari, i negozi di computer, elettroniche ed elettrodomestici. Aperti anche i tabacchini, i distributori di benzina, le ferramenta e le edicole. Stessa cosa per i negozi che vendono prodotti per l'igiene personale, le profumerie, gli ottici e le lavanderie e i negozi di prodotti per gli animali domestici. Aperte le banche, le assicurazioni e le pompe funebri. Aperte anche le farmacie. In Abruzzo via libera la prescrizione farmaceutica dematerializzata per smaltire il numero di pazienti negli ambulatori. Per ottenere un farmaco per cui occorre prescrizione basterà che il medico invii il numero della ricetta al paziente, anche comodamente tramite cellulare, numero che poi sarà mostrato al farmacista che provvederà a consegnare il farmaco. Per ogni ricetta possono essere prescritti medicinali per un massimo di sei pezzi. Aperte anche le industrie, a eccezione dei reparti non fondamentali. Gli operai rimarranno nelle fabbriche, purché siano messi in condizione di sicurezza. Mentre, ove possibile, i dirigenti lavoreranno in smart working, ovvero da casa tramite computer. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Il Premier Conte però non ha parlato di mascherine, ventilatori e terapie intensive, ma ha delegato il manager Domenico Arcuri, da 13 anni, alla guida di Invitalia. Arcuri sarà il commissario straordinario per le terapie intensive, facendosi carico di ciò che è stato messo nel discorso del Presidente. La catena di comando, che dal commissario passa per la protezione civile, poi per le regioni però, rischia di creare confusione e sovrapposizioni, tali da rendere difficile l'individuazione delle responsabilità di ciascuno in quello che potrebbe diventare uno scaricavirus.